Nuovamente in manette uno dei presunti fiancheggiatori del boss Matteo Messina De Naro. Nel giugno del 2020 Marco Manzo, 55enne di Campobello di Mazzara, era stato arrestato nel corso della fase 3 dell'operazione antimafia Hermes. E ora è stato sottoposto a un nuovo provvedimento restrittivo degli agenti della scuola mobile della questura di Trapani, dopo che a luglio il Tribunale del Riesame aveva accolto le richieste della difesa ritenendo non sussistenti le esigenze cautelari. La procura aveva quindi impugnato il provvedimento ottenendo prima una pronuncia favorevole in appello e successivamente il 12 febbraio il rigetto del successivo ricorso presentato dall'indagato in Cassazione. L'indagine Hermes a tre ricordano gli inquirenti aveva fatto luce sugli interessi economici facenti capo ai sodali del mandamento mafioso di Mazzara del Vallo, retto dal defunto boss Vito Gondola, nonché sui rapporti che il capo mafia mazzerese intratteneva con altri appartenenti alle famiglie mafiose di Marsala, Campobello e Casalvetrano. Nel corso di incontri riservati attraverso lo scambio di pizzini si decidevano tra le varie attività illecite le estorsioni da portare a termine nell'ambito della compravendita di fondi agricoli o nel settore dell'esecuzione di lavori pubblici. Le indagini avevano svelato una serie di fatti penalmente rilevanti compiuti dagli indagati, alcuni appartenenti, altri vicini a Cosa Nostra, che si adoperavano per garantire gli interessi economici e l'associazione, il controllo del territorio e quelle delle attività produttive, nonché per favorire la comunicazione riservata con il latitante Messina Denaru.